secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie andiamo perché pensate che stavo scherzando io non scherzo mai sicuramente non ce la farò perché comunque anche se dovessi passare e oggi ho da staccare prima mentality a tupac di maggio molto molto bella raga sono il 27 al comic con suono sabato sono sabato vabbè ma io ragazzi secondo me è un ragazzo che ha un cuore d'oro è un ragazzo che ha un cuore d'oro ragazzi non non pensiamoci adesso godiamoci il momento e assaporiamo il bellissimo gesto che è stato fatto ho delle immagini da farvi vedere figa leo abbiamo stavo guardando la chat io benedetto del cielo onnipotente creatore del cielo e della terra fa che gli tolga le mani a questo stronzo di merda figlio di puttana camperone bastardo infame ameba della società fotte ossigeno andiamo a me non capitano imprevisti io sono immortale sono un fottuto roba ho fatto in titanio andiamo ho fatto una bella stronzata raga mi sono chitato a 70 e me la sono bruciata così oh porca puttana per pochissimo per pochissimo per pochissimo dice nei tuoi commenti qual è il suono preferito perché avete tagliato la parte dove scoreggio sono tutto ok andiamo avanti andiamo avanti potete andare a trovarlo gg bravo troppo forte certo ciao edoardo un bel po di play si vabbè dai bravi oddio ok è buono è ninja che cazzo devo fare cioè nel senso cosa posso fare cambio cambio brawler dimmi che no 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 però porca va vi rendete conto che ce n'erano due uno sopra l'altro che non stavano attaccandosi vi rendete conto ragazzi che ce n'erano due uno sopra l'altro che non si stavano attaccando io spero che uno gli venga la cagarella e sporchi la faccia di merda di quell'altro easy penso che non sono colpibile credo di non essere colpibile raga adesso io non sono fottutamente impossibilitato ad essere preso non sono colpibile easy extreme camping edition easy extreme camping edition con tutta la macchina piano ok merda merda porca troia noia dove sono le mie patatine scusate ma sono le mie patatine scusate non abbiamo ancora perso se difendete sotto resisti resisti non c'è nessuno no resisti 198 in totale più di te bastardo come ah non lo so ne ho aspetta 18.741 ahahah perché voi non lo sapete ragazzi ma c'è una 1v1 con zane e che oramai va avanti da qualche giorno se la giochiamo per chi riesce ad arrivare dobbiamo andare a prendere il ninja che ce n'ha 21.300 via questo qua allora allora shelly vaffanculo shelly vaffanculo oh easy easy eeeh c'ho un problema c'ho un problema c'ho un problema premo un 2v2 in generale citare è una roba tristissima è tristissima perché sai nel tuo subconscio sai che stai citando e quindi alla fine non mi metto qua mi metto qua mi metto qua più ads se tua madre succhia i cazzi se tua nonna succhia i cazzi se tua nonna succhia i cazzi allora nasci tu per quale motivo per quale cazzo di fottuto motivo eeeh 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 dai però non possono mettermi queste cose raga dai però non possono mettermi queste cose figa la batteria con le ampolle porca troia porca troia e andiamo avanti i fobioskij salve anche lei tlombi buongiorno